L'arte è sicuramente una forma di linguaggio. In questo linguaggio l'artista decide come comunicarci il suo messaggio quando il linguaggio diventa arte. Per diventare arte deve rispondere ad alcuni canoni di bellezza. Ci deve comunicare qualcosa. Spesso vediamo il sole tramontare ma delle volte il sole quando tramonta ci trasmette delle emozioni così forti che non possiamo fare a meno di ammirarlo. In questa occasione il sole ci trasmette delle emozioni molto forti e nella comunicazione quando il messaggio che ci viene trasmesso arriva direttamente nel nostro cuore allora in quel caso abbiamo una forma di arte. Vedere i primi uomini che lasciano le loro impronte per far percepire la loro presenza sicuramente è una forma d'arte. Quindi possiamo dire che l'arte nasce con l'uomo è una forma di linguaggio in cui la bellezza e le emozioni sono integrate. Quando colui che vede riceve delle emozioni forti allora in quel caso siamo al truspetto di una forma artistica.